Ciao, tra l'ansia che tutti erano in ansia di sentire la fatturazione elettronica, il microfono, le slide no quest'anno. Non ce le hai? No, no, ce le ho, no, ma dico, meno male che Cristiano quest'anno niente. Marchetto non si sa, magari fa on. Allora, se siete ancora qua vuol dire che siete ancora freelance, quindi io non volevo quest'anno fare uno speech. Ho detto vado, mi prendo due giorni di mare, sto con gli amici e poi però dovevo dirvi qualcosa sulla fatturazione elettronica. Mi sentivo in dovere di dirvi almeno che c'è, perché sentivo continuamente persone che non sapevano di questa cosa e quando gli dicevo no, ma guarda che dal primo gennaio devi farla anche tu, mi guardavano con gli occhi così dicendomi davvero, non lo sapevo e quindi vediamo se funzionano. Ok, quindi la nostra legge di bilancio ha previsto che dal primo gennaio 2019 è obbligatoria per tutti la fatturazione elettronica, ma incomincerà ancora prima l'obbligo di fatturazione elettronica per l'acquisto di carburanti. In questi giorni i gestori di carburanti stanno chiedendo delle prog, o comunque stanno chiedendo delle soluzioni al ministero perché il termine del primo luglio ovviamente è vicinissimo e si stanno cercando delle soluzioni tecniche per gestire i problemi pratici del tipo arrivo dal benzinaio alle due di notte e devo fare benzina, come faccio a farmi fare la fatturazione elettronica? Ma che cos'è questa benedetta fatturazione elettronica? Le persone mi dicono, ma sì, io sono a posto perché mando già il mio cliente, la fattura è in pdf. Ok, allora il prossimo anno invece di fare la fattura in Excel o in Word, e vi prego, certe persone che conosco lo fanno ancora anche qua tra di voi, non fatele più, neanche fino al primo gennaio, dicono gliela spedisco via PEC. Non è così. La fattura elettronica per normativa deve essere autentica e perché sia autentica deve avere due cose, deve avere la firma elettronica vostra, ok? Quindi non so chi di voi ha la smart card o sa che cos'è, è un sistema di firma che permette di prendere il nostro documento pdf, ci sono dei programmini che ti consentono di firmare il documento su quel file che diventa un formato xml, c'è la vostra firma, quindi è autentica, siete solo voi, e deve essere trasmessa a questo SDI, questo sistema di interscambio creato appositamente per le fatture elettroniche. Ovviamente la fatturazione elettronica è una fattura, quindi contiene tutte le informazioni obbligatorie stabilite dal DPR 633 del 72 che è la legge IVA, quindi nella fattura ci saranno tutti i dati che inserite già adesso nelle vostre fatture, il nome, la partita IVA, l'indirizzo, è appunto un file in formato xml, quindi leggibile ovunque e da chiunque, ed è un formato univoco. E il documento che si spedirà dal primo gennaio può contenere una sola fattura oppure un gruppo di fatture. Questo è un video, non so se si vede, sì, è un video che ha realizzato La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa, spedizione e conservazione. Il nuovo formato in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, archiviate e conservate è un formato digitale chiamato XML, un linguaggio che permette di effettuare controlli sulla validità dei dati contenuti nei documenti trasmissi. La fatturazione elettronica è un sistema che coinvolge diversi attori, il fornitore, il sistema di interscambio nazionale e la pubblica amministrazione. Per prima cosa, la pubblica amministrazione, soggetta all'obbligo di fatturazione elettronica, comunica al suo fornitore un codice univoco composto da lettere e numeri detto Codice Ufficio per la Fatturazione Elettronica. Questo codice deve essere riportato nella fattura elettronica insieme a partita IVA, indirizzo, data e tutti gli altri dati rilevanti ai fini fiscali. Una volta compilata, la fattura viene firmata digitalmente dal soggetto emittente. Questo garantisce la PA sull'origine di emissione della fattura elettronica. Una volta firmata, la fattura elettronica transita dal sistema di interscambio nazionale, che è il punto di passaggio obbligato per tutte le fatture emesse verso la PA. Il sistema di interscambio verifica il formato del documento e la completezza dei dati inseriti e, grazie all'indicazione del codice univoco riportato proprio sulla fattura, provvede a inviarla alla pubblica amministrazione destinataria, che, solo dopo le necessarie verifiche, può quindi procedere al pagamento. Questo è quello che succedeva e succede fino adesso per chi di voi ha avuto l'esperienza di fatturare a una pubblica amministrazione, una scuola, un comune, un ente. Si faceva in questo modo. Si andava sul sito fattura.pa, che insomma prometteva anche l'invio di fatture elettroniche gratuitamente. Si compilavano tutti quei campi con il codice univoco che vi veniva dato dalla pubblica amministrazione e si mandava la fattura elettronica. Perché la fattura elettronica? Ovviamente l'amministrazione finanziaria pensa di prevenire e contrastare l'evasione dell'IVA, andando a recepire, sono stati stimati, 1,3 miliardi di documenti digitali. Quindi potete immaginare la molle di dati che si trova in mano la Guardia di Finanza e ovviamente sarà molto più agevolata nel fare i controlli. Dopodiché, un parere mio fuori dalle slide è chi non faceva la fattura prima non la fa neanche adesso, quindi punto. Siamo tutti obbligati. In realtà ni. Obbligati tutti dal 1 gennaio per la fatturazione B2B. Al momento sono esclusi i regimi agevolati. Quindi chi è in regime dei minimi, quindi ex regime di vantaggio o in regime forfettario, al momento è escluso. Io personalmente i miei clienti sto suggerendo a tutti di iniziare ad abituarsi con la fatturazione elettronica, perché anche chi non è obbligato alla fine a breve ci arriverà a essere obbligato e se noi arriviamo più preparati fin da subito ci troveremo subito agevolati. E tra l'altro il problema di questo primo anno, in questo periodo di limbo, dove ci saranno sia delle fatture elettroniche sia delle fatture analogiche, quindi cartacee, sarà che appunto ci sarà un mix di documentazione. Quindi come si fa? Vado veloce. Allora, esiste o il software gratuito messo a disposizione dall'agenzia delle entrate, si trova sul sito una procedura web, un'app o un software da scaricare nel proprio pc, oppure ovviamente ci sono tutti quei software privati, adesso ne stanno uscendo diversi, che si stanno implementando per gestire in maniera più semplice e più veloce la fatturazione elettronica, seguendo ovviamente un provvedimento che è stato emanato dall'agenzia delle entrate e che stabilisce le regole con cui devono essere fatte queste fatture elettroniche. Devo trasmettere quindi la fattura elettronica a questo centralone, a questo sistema centrale, come lo posso fare? Lo posso fare da sola, quindi creo la mia fattura elettronica e la spedisco, oppure posso delegare un intermediario. L'intermediario è il solito CAF, il professionista incaricato, il commercialista, il consulente del lavoro. Io personalmente, ma è un'opinione mia, non ho voglia di generare le fatture elettroniche per i miei clienti. Penso che siamo tutti in grado di imparare a generarle autonomamente e ad inviarle al sistema, quindi non lo so, alcuni miei colleghi invece preferiscono e si stanno adeguando in modo da ricevere le indicazioni dal cliente e fare le fatture per conto delle. Non lo so. La fattura elettronica si può mandare in tre diverse modalità, via PEC, quindi tutti chi non ce l'ha bisognerà farla, tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate o tramite l'accreditamento diretto al sistema, all'SDI, che è quello che in precedenza, quando vi ho fatto vedere il video della pubblica amministrazione, vi rilascerà un codice univoco che sarà solo vostro, che andrete a comunicare anche al vostro fornitore o al vostro cliente. Questo sistema, ogni volta che voi inviate un file, fa dei controlli. Questi controlli, se non vengono superati, entro cinque giorni vi arriva una ricevuta di scarto del file contenente, che abbiamo detto prima, una fattura o più fatture. Se la fattura o il lotto di fatture viene scartato, le fatture si considerano non emesse. Quindi il vostro cliente non la riceve. A me piaceva tantissimo lei, perché era proprio tipo, veramente è così. Sì, veramente è così e quindi voi i soldi non li vedrete. Ok? Viene scartato anche se il sistema trova dei problemi nella firma, avete la firma scaduta, trova dei problemi nel file che magari non è generato nel modo giusto, viene scartato. Dopodiché spediamo la fattura. Come la riceve il mio cliente? Sempre via PEC, se la mando via PEC, sempre tramite il web service o sempre tramite il sistema centrale, a seconda della modalità che scegliete di utilizzare. Tramite il web service e tramite il sistema di trasmissione di dati sono le due opzioni per cui bisogna essere accreditati al sistema, all'SDI. Quindi queste due possibilità le possiamo scegliere solo se siamo accreditati. L'altra invece via PEC, diciamo una modalità più semplice, però dipende anche dal volume di fatture che avete. Perché immaginate voi di spedire a tutti i vostri clienti la fattura via PEC e di ricevere la fattura via PEC da tutti. Ho finito, grazie, spero di non avervi messo troppo panico. Io ho una domanda invece subito Carlotta. Per chi di noi usa il software tipo fattura in cloud o fattura 24, che sono già in grado di emettere fatture elettroniche e di spedirle attraverso le ovvie convenzioni con i fornitori di sistemi di conservazione. Siamo a posto, abbiamo solo bisogno di avere dai nostri clienti i loro codici? Sì, sono già implementate le procedure, si può già iniziare a provare a fatturare, anzi io lo consiglio, se voi utilizzate una di queste piattaforme, cominciate a provare a fatturare, bisogna ovviamente prendere un po' mano, inserire nei dati, cioè la piattaforma lavora guidandovi nella compilazione dei campi, quindi una volta che voi avete i codici del vostro cliente, li andate a inserire nei campi, andate a inserire la vostra PEC, la PEC del vostro cliente. Diciamo che io ho provato a farlo proprio la scorsa settimana, manca poi ancora il pezzo di invio. Ma è uguale a quello per la pubblica amministrazione, perché già ad esempio fattura 24 permette di mandare fatture elettroniche alla pubblica amministrazione, io lo faccio, ogni tanto torna indietro e allora scatta la GIF, ogni tanto però vanno e alla fine vengono pure pagate. Con i privati funzionerà lo stesso? Sì, funzionerà lo stesso. E invece in ricezione avremo bisogno di fare una cosa ulteriore? In ricezione noi avremo uno spazio sul web dell'Agenzia delle Entrate dove verranno caricate tutte le fatture, tra l'altro c'è il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dove ci sono le istruzioni su come, di cosa succede se tu mi mandi una fattura, ma io ho la casella PEC piena e quindi viene rifiutata. Non è proprio facilissimo, però tendenzialmente c'è un posto sul sito, sulla nostra pagina dell'Agenzia delle Entrate dove là dentro andrò a trovare tutte le fatture. Va bene, quindi in confronto alla mattina di questo freelance camp sarà una passeggiata. Molta, molta meditazione. Grazie Carlotta. A te. Aiuto. Io posso andare via, no? No, 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 ci sono domande. Non ci sono delle domande, di solito non ci sono. No, volevo solo... L'argomento è particolarmente stimolante. Volevo solo chiedere se tutto questo discorso vale anche per le fatture verso l'estero. Ecco, allora, no, per il momento per la fattura, per chi fattura a clienti esteri c'è ancora la fattura analogica, quindi carta. Sì. A noi è capitato l'anno scorso che una fattura è stata respinta, non scartata. Ci abbiamo messo un sacco di tempo a capire qual era il problema e poi si è generato... Abbiamo capito che era proprio il cliente che stava contestando il lavoro. Che differenza c'è fra respinta e scartata? Cioè si capisce quando è il sistema che la respinge e quando è il cliente che la respinge? Beh, di solito sì, cioè nelle ricevute... Adesso io non ho mai visto una ricevuta respinta. No, perché noi ci abbiamo messo un po' a capirlo, non so se magari è il caso di chiarirla. Abbiamo una serie di messaggi incomprensibili dalla PIA. Io volevo sapere invece, quando ci sono delle fatture scartate, che cosa succede con la numerazione di quelle eventualmente messe dopo? E là bisogna rigenerare... In realtà la fattura... Il sistema prende la numerazione cronologica, no? Quindi a quel punto tu devi rigenerarla con una... Eh, non so... No, devo rigenerarla con quelle dopo eventualmente che vanno bene. No. Se ne ho fatto... Tu la ricorreggi, no? Dandole se aveva il 5 dopo vi hai messo la 6, la ricorreggi con... Sì, dovrebbe andare così. Staremo a vedere perché insomma, i primi mesi sarà un delirio. Sarà meraviglioso. Bello, cambio lavoro, ve l'ho detto. L'anno prossimo parlo di qualcos'altro. Posso fare una domanda che è un po' proprio veloce? Grazie. Se ho capito bene... Ahiaia, io sono in rischio. Se ho capito bene, ogni cliente ha un suo codice e io dovrò farmi mandare il codice da ogni cliente? Quindi ho 200 clienti, 200 codici. Per agevolare i controlli della Guardia di Finanza. Tutto bellissimo. Bene? Bene.